Si è tenuta nella serata di ieri una delle tradizioni più significative della città di Torianova, il falò dell'invito in dialetto umbito che segna l'inizio della novena e di tutte le manifestazioni in onore della Madonna della Montagna. La leggenda sull'accensione dei lupinazzi, steli secchi di pianti di lupini, racconta che la Madonna per sfuggire ai soldati di Erode, che cercavano di uccidere i primi geniti e quindi anche il bambino Gesù, che portava in braccio, si nascose in mezzo ad un campo di lupini secchi che al suo passaggio fecero tanto rumore da richiamare l'attenzione dei soldati. Maria per questo maledisse i lupini esclamando «dovrete avere la mia amarezza». Tra tradizione e leggenda vuole infatti che i lupini da allora sono amari e solo una lunga lavorazione riesce ad addolcirli. I taurianovesi dunque bruciano i lupini per vendicare, per così dire, l'antico torto subito dalla Madonna. Questo rito antico ha saputo resistere nel tempo e rinnovarsi creando sempre brividi ed emozioni alla popolazione festante. Nei secoli ha assunto anche un connotato di festa contadina, un'occasione per la quale gli agricoltori indossavano il loro abito più bello e andavano ad assistere all'accensione del falò e, a seconda della direzione delle fiamme, se scoppiettavano o meno, i nostri antenati traevano degli auspici per la festa ed anche per la loro vita. Una volta spento, ognuno di loro raccoglieva un po' di cenere da portare a casa, quasi una reliquia sacra da spargere negli angoli delle abitazioni per tenere via le calamità naturali o ancora nei campi per renderli più fecondi. Questo rito antichissimo, che è rimasto inalterato nei secoli, continua a suscitare sempre un brividio di emozione e commozione tra la gente e un grande fuoco proprio davanti alla chiesa intitolata la Madonna a Taurianova, la cui accensione è sempre rispettata al primo cittadino insieme al parroco. Stiamo procedendo ora a dare inizio a questi festeggiamenti della nostra patrona, con grande emozione questo gesto è un gesto importante per Taurianova, quindi andiamo e ci accingiamo a fare questo momento forte. Sì, ecco, si rinnova questa bellissima tradizione che ci ricorda che domani inizia la novena in onore della Madonna della Montagna, che festeggeremo poi l'8 e il 9 di settembre.